da che posticino la rocca dolgisio no prima volta alla merenderia c'è una vista che è una figata che figata sono appena salito sulla collina di fronte a quella dove eravamo prima purtroppo c'è un'area tutta transennata sulla cima l'ho evitata ma poi sono sbucato qua c'è questo bel monolite con dietro queste colline spettacolo figo 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 è un bel giro anche questo adesso vediamo magari vado anche dall'altra parte sulla collina di fronte no vabbè sto posto è irreale ma che roba bellissimo ma che figata bello bello ed ecco dovrei essere sulla cima del monte sereno certo che non si sono sbattuti molto dal punto di vista dei segnaletica di cima cioè questo dovrebbe essere credo l'omino diretta e vabbè il paesaggio si vede diciamo così verso un altro versante rispetto a dove ero prima e adesso andiamo a chiudere l'anello sono alla località casa poggione in disceso dal monte sereno siamo di là il versante di questa mattina con tutto il giro che abbiamo fatto in cresta pum 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 fino alla lassù dove c'è la rocca poi siamo scesi ho rifatto anche questa montagnetta qua poi sono sceso poi ho fatto tutta quella cresta qua fino al monte sereno che là dietro non si vede e adesso sto scendendo e faccio l'anello passando da quest'altra cresta bello però adesso mi faccio 5 minuti di pausa perché è tanto inutile correre quelle sono tutte al ristorante e io sono qua da solo come uno stronzo quindi è meglio che mi riposo un attimo ciao beh direi che questo qui non è male come punto per fare pausa pronti partenza wow che figata sì sì penso che mi fermerò qua